Saranno gli sbandieratori Cavensi venerdì in piazza San Francesco a Cetara a dare il via al premio in pace 2017 che verrà consegnato ad Amnesty International Italia presso la sala funzionale Mario Benincasa del centro costiero. Il prestigioso riconoscimento creato da Incostiera Amalfitana.it, festa del libro in Mediterraneo, è rivolto a tutti quegli operatori di pace che nel nostro paese lavorano, a volte nel più assordante silenzio, per costruire ponti di fratellanza e uguaglianza tra i popoli, per cercare di far cessare guerre e riaffermare i diritti dell'uomo. Durante la serata interverrà Luigi Libra, ambasciatore della canzone napoletana nel mondo, a cui sarà consegnato uno dei premi Incostiera Amalfitana.it, marchio Italy. Al termine della cerimonia, il direttore organizzativo di Incostiera Amalfitana.it, Alfonso Bottone, annuncerà il destinatario del premio in pace 2018.